Ciao da Federico, oggi sono qui con la Power Station, generatore solare o accumulatore, chiamatelo pure come volete, Evertec 1200 W, compatto, con ben 8 uscite, una ricarica wireless e tre modi per ricaricarlo, sia con la presa accendisigari, pannello solare oppure con la corrente di casa. Inoltre si ricarica all'80% in solo un'ora e invece al 100% in 1,6 ore, perché ci mette molto più tempo, perché in tutti gli accumulatori l'ultima parte di ricarica viene effettuata più lentamente, in modo tale da preservare la durata della batteria e avere una migliore ricarica completa. Una batteria agli ioni di litio consente fino a 1000 ricariche, se lo andiamo a alimentare attraverso la presa possiamo tranquillamente andare a ricaricare i dispositivi come nel mio caso il Power Band oppure le mie auricolari wireless o anche lo smartphone con la ricarica wireless. Però mentre sotto ricarica tramite l'alimentatore non potremo andare a ricaricare i dispositivi in corrente da 230 volt, perché le prese sciuco vengono disabilitate, invece con i pannelli solari funzionano tutte le prese anche mentre si sta caricando, quindi se lo vogliamo utilizzare anche in camper dove abbiamo i pannelli in un furgone camperizzato non avremo nessun problema, se invece vogliamo utilizzarlo come gruppo di continuità per alimentare un dispositivo che non deve mai spegnersi non possiamo utilizzarlo in quanto se andiamo a collegarlo alla presa della corrente le nostre due porte sciuco da 230 volt non funzioneranno. Ma andiamolo a vedere più nel dettaglio. Un bel display rotondo qui nella parte centrale ben visibile, qui troviamo la percentuale di ricarica e qui invece troviamo l'energia residua. Qui vado a trovare invece il tempo residuo di carica o scarica, in questo momento sto in uscita erogando 46 watt e quindi ancora 11 ore erogando 46 watt in uscita disponibili di batteria. Se invece andiamo a caricarlo qui ci apparirà il tempo residuo per la ricarica completa, nella parte bassa invece troviamo delle icone che ci vanno a indicare che sono attive le prese usb, quando andiamo ad attivarle ci appare l'icona usb a e usb c attive, ci appare l'icona anche delle prese sciuco poi andremo a vedere come si attivano attive o disattive e il tasto della corrente continua si va a abilitare anche la porta wireless di ricarica. E' disposto anche di sensori di temperatura, appariranno due icone in caso di temperatura troppo bassa o di sovratemperatura qui a fianco alla percentuale. Nella parte sinistra del pannello si trovano due prese usb a da 24 watt mentre nella parte sottostante si trovano due prese usb c da 100 watt molto comode se vogliamo alimentare anche un tablet o un computer che comunque assorbono fino a 100 watt. Per andare a abilitare o disabilitare le porte basta premere il tasto c'è anche un led che va a indicare che sono attive. Nella parte destra un coperchio in gomma va a proteggere la presa accendisigari attivando questa porta si va attivare anche la ricarica wireless che si trova qui sopra. E' presente anche un led nella parte frontale un tasto dedicato nella parte sovrastante andando la premere avremo diversi tipi di illuminazione costante una luce comunque calda bella che non dà fastidio una seconda funzione più potente e poi la modalità sos e la modalità strobo un'altra pressione si va a spegnere. Nella parte sinistra ci sono presenti due prese sciuco anche qui per abilitare o disabilitare la porta basta una leggera pressione sul tasto centrale il led ci indica quando sono attive oppure disattive se spento una griglia per dissipare il calore. I materiali sono di buona qualità una buona plastica può sembrare alluminio in realtà è plastica ma colorata di grigio. Nella parte sinistra una griglia per andare a dissipare il calore qui sotto troviamo dove andare inserire il cavo di ricarica per ricaricarla e dove andare a riserire il cavo xt60 per ricaricarlo con i pannelli solari oppure con la presa accendisigari. Nella parte superiore si trova il tasto di accensione e spegnimento anche qui retroilluminato quindi una volta che viene acceso ci sarà il led che si illumina e anche nella luce qui al comando il tasto per andare a abilitare la luce mentre questa zona centrale è la zona per la ricarica wireless. E' presente anche un maniglione incassato bello grande e bello robusto per trasportarla molto comodamente. Nella parte posteriore ci sono quattro gommini antiscivolo e una piccola tabella che ci va a indicare un modello 1200 watt e la capacità 37 volte 27 ampere ora 999 watt ora l'uscita in corrente alternata 220 240 volte 50 hertz. Abbiamo poi l'indicazione dei pannelli solari da 10 a 24 volte 12 ampere massimo 200 watt usb a possiamo averla da 5 volte 9 volte o 12 volte a 3 ampere 2,6 ampere 2 ampere 24 watt massimi e anche il corrente alternata massimo valore fino a 1200 watt. Nei miei test sono riuscito a alimentare ben sette dispositivi contemporaneamente senza nessun problema è molto corretto l'onda sinoesedale è pura e quindi riesce a ricaricarli tranquillamente. Adesso vado a fare il classico test del phone in questo momento in uscita ci sono 47 watt perché sta ricaricando il power bank, lo smartphone via wireless e anche le batterie del mio drone. Vado ad accenderlo adesso sta consumando aria fredda 140 watt mettiamo in avvio le resistenze 812 watt adesso andiamo ad alimentarlo con una corrente maggiore di quella che può erogare 1200 1464 watt vediamo se va a staccare 1455 no riesce comunque ad alimentarla tranquillamente adesso invece va a calare la potenza vedo che anche il phone sta calando di potenza e si porta 1200 watt quindi prima era 1400 adesso non va a staccare la corrente ma va solamente a diminuire quella che sta dando al phone quindi è minore di quella che andava a richiedere prima però non stacca. cosa si può alimentare con questo power bank? Fino a 75 volte lo smartphone si può alimentare una tv da 110 watt fino a 8 ore e virgola 2, 7 ore e mezzo un frigorifero e fino a 15 volte un macbook pro. nel complesso mi è piaciuto sia per i materiali utilizzati soprattutto per il peso perché pesa solo 10 kg ed è molto compatta un bel design e anche un bel display molto chiaro. altra cosa è la ricarica rapida in solo un'ora la ricarica wireless che è veloce quindi rapida e ricarica molto velocemente lo smartphone infatti in pochi minuti dal 40% sono arrivato al 60% quindi anche questa è molto comoda. nel complesso un prodotto che vi consiglio se state cercando un prodotto compatto semplice da utilizzare e anche leggero. spero che questa recensione vi sia stata utile vi lascio il link e il codice sconto in descrizione alla prossima ciao da federico